AFA e rischi per la salute, Hauser a supporto di anziani e fragili Appesero un nuovo welfare all'insegna di tecnologia e recupero della chiesa delle zoccolette Dopo due anni di abbandono, demolito l'ex cirighito sulla spiaggia di Ponente Acqua potabile, pulizia sentieri, più accessibile il mare di Fiorenzuola e Castel di Mezzo Sport, la Vispesero parte per il ritiro di Cingoli e prosegue l'assemblaggio della Rosa Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV Ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News Telegiornale di giovedì 18 di luglio che apriamo occupandoci ancora dell'ondata di calore che sta attraversando il nostro territorio e lo facciamo trattando il tema della tutela degli anziani e dei soggetti fragili supportati a Pesero da una importante rete di volontariato Se da un lato l'arrivo del caldo per alcuni è un buon motivo per andare al mare per altri invece, ovvero le persone più fragili, diventa un vero e proprio pericolo che li costringe a uscire il meno possibile di casa A testimoniarlo sono gli stessi numeri delle vittime e delle richieste d'aiuto a causa dell'AFA emerse in questi giorni C'è una crescita di richieste perché molte persone anziane oltre ad essere sole hanno un'età molto avanzata e hanno necessità, soprattutto in questo periodo, di spostarsi di acquistare alimenti, di andare in farmacia, di fare visite e non è indicato, come Croce Rossa ci indica nelle sue prescrizioni, in certe ore della giornata uscire Noi da questo punto di vista ci stiamo attrezzando anche con i nostri volontari che sono anziani dati in prestito al volontariato e cerchiamo di consigliarli al meglio a volte ecco, di dirgli magari fate un servizio in meno, però riguardate la salute Da queste necessità, in risposta alle richieste degli anziani Auser si è attivate in tutta la provincia per apprestare loro soccorso e aiuto soprattutto per quelle faccende quotidiane che li obbligherebbero ad uscire di casa Praticamente abbiamo istituito questo trasporto sociale che sta veramente andando alla grande anche oggi abbiamo fuori due mezzi che sono H8 ore impegnati Lo facciamo perché abbiamo visto che molte persone non hanno chi li può trasportare non hanno chi può andare ad esempio in farmacia a prendergli un semplice medicinale non hanno chi può portarli a far spesa e stiamo sopperendo con tutti i servizi che negli anni abbiamo costruito da ausilio spesa con Coppa Alleanza 3.0 25 anni Causer consegna le spese alle famiglie che hanno difficoltà soprattutto nel periodo estivo c'è stata un'impennata enorme trasporto sociale, visite mediche, col problema adesso delle liste d'attesa è impensabile far perdere una visita a un anziano che ha necessità e quindi noi in tutti i modi possibili sopperiamo a volte anche con mezzi propri dei nostri volontari alle richieste che ci arrivano Abbiamo circa dalle 10 alle 15 richieste settimanali in un mese tra tutti i servizi tocchiamo più di 100 persone Per richiedere il servizio offerto da Hauser sono vari riferimenti messi a disposizione dal contatto diretto ai canali social o numeri telefonici da contattare O direttamente ai presidenti dei circoli Hauser di Pesero ma ovviamente il servizio è stesso a tutta la provincia dove abbiamo i nostri circoli, 50 circoli in tutto il territorio o direttamente sui social per chi è un po' digitalizzato può contattarci con Messenger o al mio numero che ormai basta digitare su Google il 339 45 20 969 e poi io faccio da amministratore di tutti quelli che sono le agende dei nostri volontari E dalla rete di volontariato alla rete del welfare pesarese che si sviluppa ora all'insegna di innovazione e recupero di edifici storici E' stato presentato oggi nelle comune di Pesero il progetto Servizi Welfare Smart City Si tratta di un'iniziativa finanziata dal comune grazie al PINQA Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare Il progetto ideato da Labyrintho Cooperativa Sociale in collaborazione con Cosmark e CSV e Marche Servizi si propone di innovare il sistema di welfare locale migliorando nella qualità e l'organizzazione dei servizi sociali, culturali e comunitari attraverso piattaforme e tecnologie digitali il tutto col sostegno di un finanziamento PNRR da 800.000 euro Questo è un progetto di coprogettazione proprio fra pubblico e privato che è già la prima innovazione grossa per questo momento storico la voglia di stare al fianco per costruire dei percorsi di senso e di sicurezza per i cittadini e le cittadine perciò questo è un progetto che proprio si ripropone di ricreare delle relazioni a livello cittadino attraverso l'offerta di luoghi ma anche di piattaforme digitali tutte nate dal basso e tutte nate insieme ai cittadini e cittadine cioè nel senso che niente sarà subito dai cittadini ma sarà deciso così come alcune app che saranno dedicate alla partecipazione dei cittadini alla costruzione delle politiche della città Verrà dunque realizzata la piattaforma Pesaro Hub che promuove in forma innovativa i servizi di welfare l'app Pesaro Housing per la gestione del patrimonio abitativo e l'app People per sollecitare la partecipazione il tutto inserito anche in un ambizioso progetto di rigenerazione urbana di parte del centro storico denominato Decumano Carbon Free che contemplerà la valorizzazione del complesso storico dell'Oratorio della Misericordia altrimenti conosciuto come Chiesa delle Zoccolette Il progetto prevede una parte di hub quindi legata ai lavori che andranno realizzati in via delle vetrerie quindi il complesso delle zoccolette dove ci saranno degli spazi che verranno dedicati a incontri alla coprogettazione e al confronto con i cittadini poi ci saranno delle app invece che vengono realizzate per servizi all'insegna dell'utilità per il cittadino quindi con informazioni culturali dei progetti che ha l'amministrazione comunale e interventi di welfare innovativo Il 25 di luglio porteremo per la prima volta i contenuti di questo progetto nel cuore della città con un evento alle ore 18 che si terrà presso la corte bellissima di Palazzo Mazzolari Mosca e che vedrà la partecipazione anche di Paolo Venturi di Icon nostro partner dell'Università di Bologna e quindi l'altro partner sarà il magazine Vita e il direttore stesso verrà a moderare il panel di esperti attraverso il quale cercheremo di portare questi contenuti alla città Un'altra cosa, in questa occasione avverrà anche un momento di interazione con il pubblico grazie alla nostra piattaforma Pesaro Hub A Fanno la polizia ha individuato e fermato un uomo in stato di ubriachezza che disturbava la quiete pubblica in piazza Amiani già al centro di diversi episodi analoghi L'uomo che inveive urlava contro i presidenti è stato denunciato per esistenza pubblico ufficiale e trovato in possesso di un coltello Come misura preventiva è stato emesso un ordine di allontanamento per 48 ore notificata a questura carabinieri e commissariato di zona C'è stato un incidente stradale all'11 e tre quarti di questa mattina in via Bocca, Trabaria a Urbino dove un camioncino della raccolta differenziata si è scontrato con un'auto guidata da una ragazza che ha riportato ferite tali da richiedere il trasporto al locale pronto soccorso A Bellocchi di Fanno invece un furgone ha perso il controllo del mezzo ed è finito per impattare contro il muro di cinta di una palazzina danneggiando le tubazioni con i vigili del fuoco intervenuti per scongiurare il rischio di fughe di gas Vigili del fuoco intervenuti anche a Monte Ciccardo dove sono andati a fuoco due ettari di campo agricolo per lo più a causa di un incendio di sterpaglie Rogo che è stato circoscritto dai pompieri nell'arco di tre ore prima che lambisse un'area boschiva Ed ora ci spostiamo a Pesaro dove questa mattina gli assessori Sara Mengucci, Francesca Frenquellucci e Riccardo Pozzi hanno incontrato alcuni rappresentanti delle attività di Baia Flaminia una riunione che è stata dettata dal recente dibattito sulla concessione o meno di feste danzanti gli assessori hanno confermato che non ci sono cambiamenti rispetto al passato e come tutte le altre stati continueranno a vigilare ma anche a lavorare in sinergia con i locali nel rispetto delle regole per la sicurezza dei cittadini e la tutela delle attività economiche e sul litorale di Viale Trieste c'è invece un ex locale che oggi è stato demolito dopo due anni di abbandono Attivo fino all'estate 2022, demolito oggi in mezzo due anni di progressivo degrado per l'ex El Ciringuito che si è trasformato dal luogo della Movida Pesarese on the beach in fatiscente scheletro d'edificio abbandonato sulla spiaggia Così questa mattina le ruspe del centro operativo del comune hanno raso al suolo e rimosso buona parte delle macerie del locale collocato sul tratto di spiaggia libera di Ponente alle spalle di Pesaro Studi e a fianco allo stabilimento balneare dalla Cira Scelta radicale quella dell'amministrazione Biancani dopo che il manufatto in questione era divenuto sempre meno edificante dal punto di vista dell'immagine fra legno corroso ed elementi arrugginiti né raccomandabile dal punto di vista della sicurezza essendo divenuto luogo di bivacchi e rifiuti abbandonati Si è scelto di demolirlo perché il degrado era solo destinato a peggiorare visto che per due stati sono andate deserte le proposte di possibili attività imprenditoriali in grado di riattivarlo Un immobilismo di soggetti privati dettato anche dall'incertezza della direttiva Bolkenstein che non consente ad oggi di poter intraprendere un simile percorso lavorativo con un orizzonte temporale e regolamentare certo Restiamo in tema di spiagge ci sono quelle sul San Bartolo di Fiorenzuola di Focara e Castel di Mezzo che puntano a diventare più accessibili nella seconda metà di questa stagione estiva Due gioielli del Parco San Bartolo come le spiagge di Fiorenzuola di Focara e Castel di Mezzo puntano a diventare più accessibili a cominciare da Fiorenzuola dove il Comune ha lavoro per il ripristino della rete idrica sulla spiaggia Ovviamente sono centinaia di turisti che vengono a visitarla e ci è sembrato come dire normale ripristinare questo servizio è vero che non è stato semplice perché le frane che c'erano state lo scorso anno ma anche gli anni precedenti avevano completamente rotto quella che era la condotta e quindi si tratta di ripristinare la condotta dal centro abitato di Fiorenzuola fino a mare con una spesa importante di 10-15 mila euro e però lì riusciremo a riportare appunto la doccia importante anche perché le persone lì non hanno un'alternativa non c'è un bar, non c'è un ristorante, non c'è nient'altro e quindi se una persona deve stare al mare tutto il giorno soprattutto un turista non aveva come dire neppure un goccio d'acqua Sulla strada del mare di Fiorenzuola si stanno poi sbloccando anche le risorse extracomunali volte alla messa in sicurezza del percorso Ci sono risorse che purtroppo sono anni che non vengono spese qualcuno ha dormito, le risorse ci sono ormai da troppi anni anche qui sono diventato sindaco da appena un mese ma ovviamente so che anche l'amministrazione precedente aveva cercato di fare di tutto per riavviare quanto prima questi lavori mi hanno detto anche perché che dovrebbero partire almeno una parte di questi lavori a breve in particolar modo nella strada che porta a mare a Fiorenzuola di Focara dove verranno ripristinati i cosiddetti guardrail e anche altri tipi di strutture importanti perché possono consentire anche i mezzi di soccorso e anche i mezzi che consentono, che vanno a pulire la spiaggia di poter raggiungere la spiaggia in maggiore sicurezza C'è poi la strada Rive del Faro di Castel di Mezzo dove il centro operativo del comune sta intervenendo per rendere più agevole il percorso pedonale verso la spiaggia Stiamo anche facendo un altro intervento che spero riusciremo a chiudere nei tempi più brevi possibili cioè quello di ripristinare il sentiero che porta a mare a Castel di Mezzo anche qui che porta in una delle spiagge più belle che abbiamo nel Parco del San Bartolo chiusa da anni stiamo facendo gli interventi con gli operai del centro operativo quindi i nostri operai per cercare di riaprirla e quindi consentire che nel Parco del San Bartolo oltre alla spiaggia di Vallugola oltre alla spiaggia di Florenzola di Focara c'è la possibilità anche di poter raggiungere il mare passando da Castel di Mezzo Compliano a cifra tonda per Matteo Ricci che oggi 18 di luglio festeggia il traguardo dei 50 anni dei quali gli ultimi 10 trascorsi da sindaco di Pesaro Da un mese e mezzo Matteo Ricci è invece diventato parlamentare europeo grazie ad un consenso elettorale di 102.000 voti A Mercatello sul Metauro procede il maxicantiere di ripristino della Galleria della Guinza lavoro in corso che riguardano in questa fase la demolizione del riempimento dell'arco rovescio in galleria la costruzione dell'impianto di reggimentazione idraulica al campo base sul versante Marche e l'illuminazione della Galleria Sant'Antonio che ospiterà il bypass pedonale A Durbina è invece diventata operativa da ieri la nuova elisuperficie di Castaccolo dopo le verifiche necessarie all'autorizzazione al volo che sono durate alcuni mesi prolungandosi oltre le tempistiche inizialmente previste La struttura rappresenta un servizio essenziale per potenziare l'emergenza urgenza dell'ospedale Urbinate e dei servizi sanitari delle aree interne Marche Multiservizio ha intercettato altri fondi PNRR per eseguire il suo secondo maxi intervento di ammodernamento della rete fognaria e ottimizzare la gestione della depurazione nel territorio sanando la procedura di infrazione comunitaria avviata nel 2014 Sono infatti in corso i lavori per il completamento del collettore di San Costanzo l'intervento che richiede un investimento complessivo di 4 milioni e mezzo di euro di cui quasi 1 milione e 4 derivanti dal PNRR prevede la realizzazione di 8 chilometri di nuove condotte fognarie e di 8 impianti di sollevamento Grazie alla collaborazione con la Onlus piattaforma solidale la scuola Ipsia Benelli sarà coinvolta nella realizzazione di nuovi prototipi di deambulatori assistiti sviluppati dai dipartimenti di meccanica ed elettronica Si tratta di un intervento che creerà ausili universali con ruote intercambiabili adattabili ad ogni genere di superficie Il brevetto dell'istituto della preside Marinai produrrà anche introiti a servizio della scuola Ad applaudire l'intesa anche il presidente della provincia Giuseppe Paolini Sabato 20 luglio alle ore 18 il teatro comunale di Montemaggiore al Metauro ospiterà lo storico inglese Bernardo Conor che in occasione della ricorrenza degli 80 anni del passaggio di Winston Churchill a Montemaggiore presenterà il suo l'ultimo libro che è stato illustrato anche al Salone Internazionale del Libro insieme alla giornalista Nicoletta Maggi libro che si intitola Operazione Etna l'infiltrazione di agenti sovietici in Italia Ed ora una segnalazione che ci arriva da Manuela la nostra telespettatrice che ci ha inviato questo video che mostrerebbe un sospetto avvistamento di un lupo circolare alle 6 di mattina in via Petrarca zona muraglia di Pesaro l'animale si è poi dileguato nella zona dei giardini parrocchiali di Cristo Risorto verso il sentiero San Francesco diversi gli avvistamenti analoghi già segnalati in questa zona vi ricordiamo come sempre il numero Whatsapp dedicato alle segnalazioni a Rossini TV 370-366-7210 ed ora concludiamo il nostro telegiornale con una notizia di sport da lunedì scorso infatti la Vispesaro 2024-2025 ha cominciato a preparare la sua stagione al Benelli e da domani partirà per il ritiro di Cingoli vediamo il punto sull'allestimento della Rosa in questo servizio è partita la stagione 2024-2025 della Vispesaro è partito con quattro giorni di testa al Benelli il percorso che condurrà al settimo anno consecutivo di Serie C e che prenderà corpo da domani 19 luglio con la partenza per il ritiro di Cingoli che durerà fino al 3 agosto è una vis che riparte da alcuni punti fermi in primis la conferma di Mister Stellone in panchina e dei senatori di Paola Tonucce Pucciarelli in campo zoccolo duro al quale si sta costruendo attorno un gruppo in via di assemblaggio che ha già aggiunto elementi di qualità ed esperienza quali Paganini, Bove e Orellana con Mister Stellone abbiamo le idee chiare fin da inizio mercato ci siamo prefissati degli obiettivi e questi obiettivi sono andati a buon fine quindi da partire da Bove, a partire da Paganini a partire dall'arrivo di Orellana penso e spero un giocatore importante che abbiamo inseguito che abbiamo fatto sì e qua ringrazio il presidente Bosco affinché questa cosa andasse in porto perché è stato un investimento importante da parte della società per quanto riguarda invece i ragazzi giovani sui ragazzi giovani abbiamo acquistato secondo me siamo a buon punto, siamo a buon punto abbiamo ancora qualcosa da fare, da perfezionare stiamo valutando col Mister ci diamo come obiettivo 10 giorni un po' le prime due amichevoli i primi due test importanti che abbiamo per far sì di capire a che punto siamo sulla squadra spero e penso di essere a buon punto potrebbe arrivare come ho detto prima forse un altro quinto a destra o a sinistra dipende un po' da dove vogliamo intervenire dipende anche un po' dalla situazione di Zoya che si è arenata con la Ternana perché su Zoya avevamo già prefissato la cessione del ragazzo poi purtroppo ci sono stati dei problemi quindi in questo momento qua Riccardo è con noi un giocatore della Vispesero ce lo teniamo stretto e vediamo quello che gli va a prefissare il suo futuro valutazioni di mercato che saranno effettuate anche alla luce delle due amichevoli di lusso con due avversari di Serie A come il Venezia e il Monza in programma il 25 e il 29 luglio la stagione avrà poi il suo start ufficiale col turno preliminare di Coppa Italia con l'Arezzo l'11 agosto al Benelli il campionato partirà in Sardegna con la trasferta in casa Torres del 25 agosto prima del debutto casalingo del 1 settembre ancora contro l'Arezzo ci tengo con tutto il mio cuore a ringraziare ancora una volta la gente di Pesero perché mi ha fatto emozionare mi ha fatto battere forte il cuore ho capito veramente quanto la gente dopo questo è il quarto anno che sono qua quindi dopo tre stagioni parlo dell'anno scorso quanto la gente tiene a questi colori a questa società ma vi assicuro che anche io il Presidente e tutta la proprietà tutti i ragazzi abbiamo giuito insieme a voi affinché questo traguardo meraviglioso venisse raggiunto tornando sugli obiettivi sicuramente promettiamo impegno come ho promesso l'anno scorso sicuramente ci saranno dei momenti dove sicuramente tutti insieme soffriremo però dobbiamo essere in grado di sorpassare quei momenti lì spero il meno possibile perché la gente di Pesero merita tanto merita un qualcosa di importante sicuramente noi vorremmo e proveremo a fare qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto l'anno scorso si conclude qui questo nostro appuntamento con l'informazione di Rossini News spazi informativi che però continuano subito dopo il Tg alle 20 è infatti previsto il nostro speciale dedicato all'Innovation Road Show tenuto sia a Pesero al teatro sperimentale legato alla casa delle tecnologie emergenti tecnologie per le imprese culturali e creative vedremo tutto questa sera alle 20 a seguire alle 21 e 20 andremo a vedere la settima edizione del Memorial Teto e ancora alle 21 e 40 spazio alla musica quella di Montefeltro Festival 2024 con la traviata di Montefiore Conca andata in scena al teatro di Montefiore Conca questa sera alle 21 e 40 e infine vi aspetto domattina in diretta alle 7 e 20 per la nostra segna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini si chiude invece qui l'appuntamento informativo con Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi con Rossini e vi ringrazio per averci seguito e vi ringrazio per averci seguito e vi ringrazio per averci seguito